E' morto Fergus, uno dei due cuccioli di cane della regina Elisabetta d'Inghilterra, regalato dal principe Andrea alla madre, 94 anni, durante la malattia di Filippo, per distrarla dalle preoccupazioni sulle condizioni di salute del marito. Lo scrivono i media britannici, sottolineando come la regina sia distrutta dalla morte del cucciolo e voci provenienti dal castello di Windsor riferiscono che tutte le persone coinvolte sono preoccupate perché questo succede poco dopo la morte del marito. La morte del cane, un dorgi incrocio fra un bassotto e un corgi gallese di soli 5 mesi di vita, arriva infatti a neanche un mese e mezzo dalla morte del consorte Filippo, avvenuta il 9 aprile scorso.